Accesso più facile al credito per le piccole e medie imprese toscane grazie al nuovo strumento presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana, nato dalla collaborazione tra Fidi Toscana, Federazione delle Banche di Credito Cooperativo e tre istituti toscani, Banco Fiorentino, Chianti Banca e Banca Alta Toscana, plafondo di 20 milioni di euro per un'operazione innovativa a livello nazionale in materia di garanzie sui prestiti. Il che vuol dire riuscire a sostenere lo sviluppo di piccole e medie imprese ovviamente in fase di espansione attraverso la possibilità di garantire l'80% con garanzia diretta da parte di Fidi Toscana il loro finanziamento, di poter essere controgarantiti e di poter istituire una trance su un pacchetto di garanzie con una parte junior, quindi con una percentuale del 10% dove garantisce la Fidi Toscana e la restante parte l'istituto di credito. L'importo finanziabile va da un minimo di 30 mila a un massimo di 300 mila euro in 5 anni. La garanzia di Fidi Toscana è risultata decisiva per offrire alle imprese prestiti con tassi che partono dall'1,25%. La procedura per le imprese è semplice. Sempre tramite gli sportelli delle banche di reddito operativo si potranno presentare all'interno che è la nostra rete, siamo presenti in tutta la regione e potranno chiedere di usufruire anche di questa opportunità. Ma sarà la stessa banca a offrire questa opportunità per poter sostenere dal meglio. Il Presidente Rossi ha sottolineato l'importanza degli investimenti che la regione ha inserito come voce prioritaria nell'ultimo bilancio. Si viene incontro a questo popolo di piccoli, piccolissimi imprenditori che magari con un accesso, un prestito di poche migliaia di euro, poche decine di migliaia di euro, possono continuare la propria iniziativa, possono continuare a scommettere, a vivere. Grazie. 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 Grazie.